Siamo alla villa comunale di Chieti con la telecamera di Diego Martelli. Nevica, ci sono diverse persone e soprattutto diversi bambini che si stanno divertendo con la coltre bianca. E tu? Mi sto divertendo. Con me ti stai divertendo? Sì, con te e con la neve. Previsioni rispettate anche a Chieti, dove da ieri sera nevica e la città si è colorata di bianco. Oggi scuole chiuse tramite l'ordinanza del sindaco Ferrara, ma i bambini e non solo ne hanno approfittato tra slittini, palli di neve, bici, ad hoc e quant'altro, riempiendo la villa comunale della città. Il primo cittadino ha invitato la popolazione a stare a casa e a uscire se non in caso di necessità. Ma la neve è la neve, nonostante qualche disagio ha sempre il suo fascino da vivere. Tutto questo mentre il comune si procede con l'ennesima riunione sul da fazzi, il sindaco Diego Ferrara. Piano Neve ha una sua lunga tradizione nella nostra città per le caratteristiche ovviamente geografiche e orografiche della città stessa. Non abbiamo avuto nessuna criticità particolare, sebbene in un determinato spazio di tempo ieri sera abbia nevicato molto. Questa mattina tutte le strade principali sono transitabili e con i mezzi più piccoli stiamo pulendo anche le strade ovviamente più impervie, in salita e più piccole sempre per ridurre al minimo i disagi. Ridurre al minimo, ecco sia ben chiaro, non significa eliminare tutti i problemi. Questo lo voglio dire per onestà, insomma, intellettuale. Sono attivi nel frattempo i servizi pronto spesa e pronto farmace, grazie alla collaborazione tra comune di Chieti e protezione civile. Quanto alle previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni? Io ho parlato anche con dei meteorologi accreditati in questi giorni e tutti mi hanno detto che la particolarità di questa perturbazione si possono fare previsioni a brevissimo tempo. Quindi tutto sommato potremmo intuire che dopo una breve pausa tra oggi pomeriggio e domani, lunedì e martedì ci troveremo di fronte possibilmente a nuove condizioni critiche, però in effetti non possiamo dare nulla per scontato. Il sindaco ricorda al contempo il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale ai veicoli sprovvisti di pneumatici termici e o cateni a bordo. Sei contento della neve? Sì. E allora andiamo a giocare a palla di neve, ok? Ok. Andiamo. E allora andiamo a giocare a palla di neve.